col 9 Funky Rock che ora però rientra, col 10 Furioso Bar allo stacco c'è Lotta con Ferahana S che cerca di scavalcare First of Mind che ha all'interno Fierro S, passa Ferahana S nei confronti di Fortuna Drago Font alla corda, First of Mind poi ancora terzo alla corda, si è inserito benissimo dalla seconda fila Faber-JB che ha scavalcato Fierro Star, First of Mind va a chiedere strada a Ferahana S la ottiene, progredisce o almeno cerca di farlo in terza ruota Fatto d'amore ma è ancora al centro del gruppo, ora si migliora Fatto d'amore aggirando Fallowise a S che era rimasto di fuori scoperto e allora Fatto d'amore va al Sarchi di Ferahana S avendo in scia Ferahana S, First of Mind leader e completa i primi 600 metri dal palo fino a qua in 44 e 3 cerca ora parzialmente di graduare Alessandro Cocciadoro il Sarchi a First of Mind seguito da Ferahana S Fortuna Drago Font che ha all'esterno Fatto d'amore Faber-JB che ha all'esterno Ferahana S in terza ruota la puntata di Funky Rock che cerca di aggirare i cavalli in seconda ruota ma subisce l'anticipo di Fallowise a S che ovviamente va ad aggirare a sua volta Fatto d'amore lasciando scoperto in terza ruota Funky Rock e allora all'avanguardia adesso ci sono due del team Cocciadoro First of Mind con al sediolo Fallowise a S al cui interno c'è Ferahana S insiste in terza ruota però Funky Rock che punta deciso sulla testa e sembra anche inecisivo costringe Fallowise a S ad accelerare per andare su First of Mind Ferahana S spettatore interessato davanti a Fortuna Drago Font terza ruota anche per Fandango Lewis corsa ancora tutta da decidere quando siamo in vista del paletto dei 500 finali First of Mind e Fallowise a S ha ripiegato Funky Rock nella scia di Fallowise avendo all'interno Ferahana S poi Fandango Lewis con all'interno Fortuna Drago Font ancora Faber G.B. e per finire Fuoco d'amore retta d'arrivo First of Mind in vantaggio con all'esterno Fallowise a S Ferahana S segue bene lungo la corda dal gruppo cerca di emergere anche Fortuna Drago Font che trova spazio esposto a largo First of Mind nel finale allunga nei confronti di Fallowise a S e vince con Ferahana S che dovrebbe essere ancora terzo su Fortuna Drago Font che dovrebbe essere ancora terzo su Fortuna di Fallowise a S